Ho sempre avuto la posizione anche molto isolata alcuni anni fa che il nuovo ospedale andasse fatto a Villa Mosca, realizzato a Villa Mosca perché un ospedale non è soltanto una questione sanitaria, è anche una questione urbanistica di assetto di una città e del territorio. Mi pare che la notizia di oggi sia questa, il Presidente della Regione dice una parola chiara, da un mandato chiaro, si realizzerà il nuovo ospedale di Teramo e si realizzerà a Villa Mosca e all'esito dello studio di fattibilità si vedrà quante risorse sono necessarie, la Regione si farà carico di tutto quello che occorrerà. Mi sembra una grande notizia, naturalmente nella consapevolezza che questi sono percorsi lunghi, se qualcuno si aspetta di vedere tra pochi mesi un ospedale nuovo questo non sarà, però è una grande notizia perché l'ospedale ci sarà, si realizzerà, si realizzerà nel sito di Villa Mosca che è il sito che volevano i Teramani o sempre voluto.